L'architettore è la madre di tutte le cose, diciamo la madre di tutte le cose, la madre di tutte le arti in qualche modo, perché è il luogo dove ospitano tutte le altre arti. È un qualcosa per imparare a camminare, per muoverci, come si si avvicina verso le cose, come si va verso le cose, come si nomina le cose. È un qualcosa anche dove ci si deve orizzontare, serve per orizzontarsi e non è poco. Orizzontarsi vuol dire riconoscere dei luoghi e capire dove stai, ed è una cosa fondamentale. Cioè, capito, in più ti fa serena, ti fa riposare. Io sono legato a tutto il territorio, non solo a quello che c'è sopra in superficie, ma a quello che c'è sotto ancora di più, che non conosco anche, ma ancora di più sono legato. Anzi, sono legato profondamente in un modo ancora più antico che più antico, perché voglio andare indietro, voglio andare sotto. Le buche di Roma sono un capolavoro di questo territorio sacro, è la città sacra, l'unica città al mondo, e come vedi non le comprendono. Ci vorrebbero molto più grandi le buche di Roma. Devono essere delle caverne per andare sotto, e tu sai cosa vuol dire territorio sacro? Vuol dire che sotto ce ne sono tante altre di Roma. Mi piacerebbe entrare in una di queste caverne per uscire non so dove. La ricreatura è poi, come si dice, la casa madre, per ospitare questo tipo di emozioni e di equilibri. La ricreatura è poi, come si dice, la casa madre, la ricreatura è poi, come si dice, la casa madre, come se dice, la casa madre, è poi, come si dice, la casa madre, la casa madre,